In lomellina è allarme per le truffe agli anziani, tanto che il maggiore Paolo Banzatti, appena insediato alla guida della compagnia Carabinieri di Vigevano, è voluto intervenire per richiamare una maggiore attenzione. Tra gli episodi registrati nella sola giornata di martedì, due dei quali hanno avuto come protagonisti finti malati Covid, la nuova scusa utilizzata dai malintenzionati. Una signora di 92 anni di Vigevano nel tardo pomeriggio di martedì è arrivata a consegnare addirittura la somma di 10.000 euro a un truffatore. Aveva ricevuto la telefonata di una persona che si spacciava per sua nipote, la quale ha raccontato di essere stata ricoverata in ospedale per il Covid e di avere bisogno di soldi per urgenti cure mediche. La finta nipote ha chiesto all'anziana al telefono di mettere da parte dei soldi e di consegnarli a un non meglio precisato amico che sarebbe passato a prenderli. La 92enne, spaventata, ha fatto quello che le era stato detto finendo per dare in mano i 10.000 euro a un malvivente. La stessa cosa era avvenuta poche ore prima, attorno alle 13.30 sempre a Vigevano. Un'altra anziana è rimasta vittima di una telefonata, in questo caso la truffatrice si era spacciata per la figlia ma la storia raccontata era sempre la stessa. Il ricovero per coronavirus, il bisogno di denaro per cure urgenti, l'amico che sarebbe passato a prendere i valori. La vittima ha consegnato diversi gioielli in oro che si sono volatilizzati. Proseguono però anche le truffe con copioni più tradizionali. A Confienza, sempre martedì, in mattinata, un 89enne ha ricevuto la visita di truffatori che si sono spacciati per tecnici dell'acquedotto. Hanno utilizzato il trucco dei controlli che avrebbero potuto comportare rischi per gli oggetti di valore, invitando l'anziana a riporli in un sacchetto. I due se ne sono andati con 1.250 euro in contanti e alcuni gioielli. Visti numerosi episodi segnalati in questi ultimi giorni, dai carabinieri è arrivato l'invito a prestare la massima attenzione. Avvisate i familiari, ha dichiarato Maggiore Banzatti, e anche in presenza di un semplice dubbio, chiamate le forze dell'ordine.